Oggi siamo ad Alba in provincia di Cuneo. Un tour lungo quello di oggi, sarà un tour di tre giorni circa 200 chilometri per 5.000 metri di dislivello. Il percorso è questo qui. Partiremo da Alba, poi faremo Verduno, Novello, Belvedere Langhe, Iliano, Sale San Giovanni, Salicetto, San Sebastiano, Portemiglia, Santo Stefano Belbo, Neve per ritornare poi di nuovo ad Alba. Un tour impegnativo ma che sono sicuro che riserverà belle e piacevoli sorprese perché le Langhe sono un territorio sicuramente molto bello da visitare. Iniziate a seguirmi in questa nuova avventura di tre giorni, Grand Tour delle Langhe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sous-titrage ST' 501 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 Grazie a tutti 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 200 km Ci vediamo alla prossima